...rimandata a causa della completa assenza di neve. Vediamo la trete, partita subito molto bene la Ranigler, la Laissuco, il petrole giallo è all'esterno, la Ranigler è seconda. La Ranigler è seconda e riesce a mantenere questa posizione. Cade invece Sandra Farman, quindi davanti dovrebbe esserci Manuela Riegler, è così, seguita in seconda posizione da Manuela Riegler. Manuela Riegler che non si lascia intimorire dall'Austriaca e lì alle costole. Attenzione a Carmen Ranigler, Carmen Ranigler che sta cercando di rientrare su Manuela Riegler. La Ranigler è ancora lì a pochi centimetri dalla coda dell'Austriaca, riesce a chiudere all'interno, vediamo se riesce a passare davanti, non ce la fa, è sempre l'Austriaca davanti. Carmen Ranigler non molla, non molla riesce forse a superare, no non ce la fa, è ancora lì a pochi centimetri dalla Ranigler. Finale da fotofinish, c'è a fare italiana, Carmen Ranigler è la prima italiana ad aggiudicarsi una prova di snowball cross, vittoria strepitosa della giovane italiana.